Pronto? Pronto, buonasera Milano! Sì! E' l'Ela San Giorgio, il direttore generale? Sì, sì! Oddio, questa lavaccia! Comunque, il problema è questo, ora, questo contrattino che lei ha firmato, prevede parecchie clausole. Ma guarda! Il collega gliela ha spiegato come funziona. A me non mi occorre nulla. Ma dobbiamo andare giù l'altra? Signore, forse qua, eppure mi sembra che siamo italiani. Oh no, è un 8, nel 92 dovrebbe, aspetti, nel... Forse ci siamo non compresi. Allora, vabbè, poi provvediamo, no? Sì, allora penso che le veniamo a portare giù anche il frigorifero. Per il momento non mi occorre nulla, poi... ...il contrattino che ha firmato, venivano i tecnici, quelli con i... Io non c'entro, io sto fuori! Lei mi fa rigirare? Non ti permettere più delle parole? Ecco, a Pappagaro si va. Beh, tu devi essere lavato. No, io non mi piglio niente, piglio il tecnici. Ma scappa un s*****o! Senti che ha fatto il s*****o, tu sì! Senti, mo' me hai rotto proprio il s*****o qui! Ah, ma voi fanno i p***i così! Sì, mo' vengo, adesso senti un po' la cosa. Io non la voglio la vaticcia, va bene? Tu risolvi un blattro. Mi sa te lo metto, mi f***o! Sei vocale! Mi scrivi ai terroristi, eh! Lei mi fa rigirare anche i p***i, eh! Non me la f***a niente, te li fa a prendere! Lei mi fa rigirare i p***i! Oh, no! No! Agnotta, per voi è morto! È morto!